Riscoprire le proprie radici e le proprie origini, su questo leitmotiv si può leggere il desiderio e l'aspirazione di alcuni studenti sicolo paraguaiani che nel prossimo mese di ottobre verranno in visita in provincia. E' stato questo alla fine il felice esito della missione di una delegazione di Gerratane che si è recata ad Assunzion, capitale dello Stato sudamericano. E ci si chiede intanto cosa spinge un ragazzo paraguaiano di origine siciliana ad avere il desiderio e il bisogno di conoscere le proprie radici e a ricercare l'origine della propria famiglia. Un sogno alla fine di poter conoscere la terra dalla quale sono partiti i propri avi in cerca di fortuna, fino alla gioia nell'apprendere di avere vinto un viaggio premio per realizzare un desiderio a lungo, inseguito e agognato. Tutte domande che si è posta alla delegazione gerratanese di ritorno dalla visita in Paraguay. Un'esperienza ricca di significati culturali ma anche fuoriera di futuri interscambi rimarcata appunto dal viaggio premio per 20 giovani paraguaiani di origine siciliana e vincitori di un concorso pubblico che li abilita appunto a venire in Sicilia. L'iniziativa è andata in porto grazie soprattutto agli scambi e al rapporto esistente tra lo stesso comune Montani-Ibleo e l'Unione dei Siciliani del Paraguay.